benvenuti in questo video di prova di megamen 2 per sega master system è una homebrew che sta cercando di ricreare il capolavoro uscito su nintendo su sega master system questa è la versione 0.55 mancano ancora tutti i nemici diversi elementi come le piattaforme mobili ma è un progetto che sta piano piano avanzando e ho ritenuto fosse interessante a mostrarvelo un like e un'iscrizione al mio canale sono sempre molto graditi se siete interessati ad hack e homebrew trovate un'apposita playlist dedicata all'interno del mio canale buona visione un'iscrizione al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.